facciamo ben 170 kg di stacco di riscaldamento ora proviamo un 200 kg deadlift buono, lightweight per favore mi indichi brother col dito i vari pesi quello d'argento sono 20 kg, 15, 15, 15, 10, 5, 5 e 1,25 questo è un chilo e mezzo quindi proviamo oggi nuovo record deadlift 212 come io l'ho già fatto adesso lo faccio fare a lui non ne mi sono inquadrato 212 nel mezzo dove sta la cintura? eccola proviamo prima l'ho fatto con la pesa così la pesa così dai è 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